Il segreto con la puntata dell'8 luglio 2020 va in onda su canale 5 alle 15.45 Peppa è riuscita con un sotterfugio ad appropriarsi della cartella del medico così da sottrarre il suo ricettario Ha quindi chiesto ad Emilia di aiutarla a scrivere una lettera che le permetta di recarsi nella casa di cura in cui è stata ricoverata Angustias, così da scoprire la verità sulla gravidanza di Martin e dire a Tristan come stanno davvero le cose.Tristan, dal canto suo, ingannato da Francisca Crede che la moglie sia al sanatorio per colpa di Peppa e così continua ad evitarla e intimarle di non farsi più vedere In queste puntate della Sop il segreto inoltre, Raimundo ha fatto adirare Francisca che non è riuscita ad impedirli di costruire la locanda, mentre Yuan E' in procinto di partire per la Francia e realizzare il suo sogno di artista, anche se questo comporta il non vedere più soledate Il segreto puntata dell'8 luglio 2020 su canale 5 Peppa deve trovare assolutamente il modo di dimostrare che Martin sia suo figlio e così, una volta Che si è intrufolata nella stanza della moglie di Tristan, si mette alla ricerca della cartella clinica di Angustias Intanto, Raimundo viene a sapere che Francisca non si arrese e ha mobilitato i suoi avvocati per non far partire i lavori per la locanda Come se non bastasse, lui lo scoprirà nella puntata di domandi del segreto che la Montenegro ha bloccato il prestito richiesto alla banca per i lavori alla taverna Il padre di Emilia tuttavia prometterà di fare il tutto e per tutto per arrivare al suo obiettivo.Le trame della puntata di domandi del Il segreto raccontano che Yuan ripenserà alla proposta di studiare in Francia e capirà che il suo futuro è consolidato Francisca, capendo che sia figlia, vede ancora il Castaneda, andrà su tutte le furie e penserà a come dividerli per sempre La verità su Martin purtroppo, nella puntata di domani della Sop il segreto, Francisca studierà un modo per sì che sole Dado si allontani dall'odiato Yuan e sposi un uomo nobile alla sua altezza Ippolito sarà alle prese con le prove per la degustazione del Dado, mentre Tristan continuerà a pensare a Peppa, nonostante si convinca del contrario.Nell'episodio D Il segreto in onda domani, mercoledì 8 luglio 2020 su Canale 5, Peppa troverà la cartella di Soledad e finalmente saprà che la donna ha mentito Il segreto in onda domani, mercoledì 8 luglio 2020 su Canale 5, Peppa troverà la cartella di Sop Grazie a tutti